Il professor Franco Montanari è professore ordinario di letteratura greca presso l'Università di Genova, è direttore della rivista di filologia e istruzione classica del Centro Italiano dell'Annephilologique e del progetto Aristarchus Online. Partecipa a diversi progetti di ricerca in ambito italiano e internazionale, ha curato il G, il vocabolario della lingua greca, uscito nella terza edizione in Italia, che è stato tradotto anche in greco moderno e l'edizione in tedesco uscirà l'anno prossimo. Brill ha tradotto in inglese e pubblicato The Dictionary of Ancient Greek nel 2015. Una domanda che ci viene posta frequentemente è perché Brill ha deciso di pubblicare un nuovo dizionario di Greco Antico, visto che ce ne sono già altri. Può dirci perché si è dedicato a questo progetto così impegnativo e perché lei pensa che questo dizionario risponda a una necessità degli studenti e degli studiosi di Greco Antico di oggi? Devo dire che questa domanda non viene posta solo a Brill, ma viene posta anche a me e anche agli altri editori che si sono impegnati a pubblicare questo dizionario. Non è difficile rispondere a questa domanda se ci si pensa bene. Io per sintetizzare la questione di solito uso dire che ci sono tre fattori che consigliano e spingono a pubblicare un nuovo dizionario anche di una lingua che non è più parlata. Il primo fattore è quello che riguarda la lingua da interpretare, nel nostro caso il Greco Antico. Quando qualcuno che non è addetto ai lavori dice il Greco Antico non è più parlato, quindi del Greco Antico sappiamo tutte le parole, conosciamo tutte le parole, dice una sciocchezza enorme. In primo luogo perché ogni anno si pubblicano nuovi testi. Quindi il fatto che non vengano prodotti nuove testimonianze, nuovi testi, nuove opere in Greco Antico, non vuole assolutamente dire che conosciamo tutte quelle che sono state prodotte. Ci sono nei manoscritti, nei papiri centinaia di opere ancora da pubblicare. Ogni anno vengono pubblicati decine e decine di papiri prima inediti. Nelle biblioteche ci sono manoscritti che non sono mai stati letti. Quindi ogni anno si scopre qualcosa di nuovo del Greco Antico. Forse molti possono restare sorpresi del fatto che ci sono ogni anno un numero X, difficile da dire, di nuove parole del Greco Antico. Perché si pubblicano nuovi testi, perché si fanno nuove letture. Ma non è solo questa la questione. La questione è che si fanno nuovi studi sulla lingua, sulla grammatica, sulla sintassi, sul lessico. Quindi gli studi progrediscono sul Greco Antico. Si interpretano meglio le parole, si interpreta meglio la struttura grammaticale. Insomma, in parole povere, per riassumere, c'è un progresso nella ricerca che si sviluppa ogni anno e che riguarda la lingua da interpretare. Quindi il primo fattore di cui un nuovo dizionario di una lingua come il Greco Antico o come il Latino, per esempio, deve tener conto è il progresso nella ricerca sulla lingua da interpretare. Il secondo fattore è la lingua che interpreta. L'italiano, il tedesco o l'inglese che si parla oggi sono molto, molto diversi dall'italiano, dal tedesco o dall'inglese che si parlava, non dico cento, ma trent'anni fa. L'ultima edizione del Leader Scott è del 1940. Provate a chiedere a un ragazzo inglese se l'inglese del Leader Scott è quello che lui parla ogni giorno. L'ultima edizione di un vocabolaio di greco italiano è del 1940, stranamente, anzi diciamo del 1943. Provate a chiedere a un ragazzo italiano se l'italiano che lui parla è quello che trova nel vocabolario greco italiano pubblicato nel 1943. La lingua moderna cambia, si sviluppa e obbliga a tenere dietro a questo aspetto. Quindi il secondo aspetto, importante da modernizzare, è la lingua che interpreta. Io devo produrre un vocabolario che non crei a un giovane una difficoltà supplementare perché oltre alla difficoltà di capire il greco, ha difficoltà a capire l'italiano o l'inglese che gli dovrebbe spiegare il greco. Allora un fattore importante nel produrre un nuovo dizionario è adattare la lingua di traduzione, la lingua che comunica con l'utente. Il terzo fattore che non è meno importante, anche se forse agli studiosi può sembrare un po' esteriore, è quello del layout grafico. Il layout grafico di un dizionario prodotto 70, 80, 100 anni fa è lontanissimo dal layout grafico che oggi soprattutto i giovani sono abituati a vedere. Allora il layout grafico è un altro elemento non poco importante che consiglia di produrre nuovi dizionari anche per il greco antico. Naturalmente il discorso che ho fatto vale per tutti i dizionari bilingui anche di lingue moderne, però per molti aspetti vale di più per i dizionari delle lingue antiche, per una ragione precisa, perché un nuovo dizionario di inglese si può fare ogni cinque anni, ogni dieci anni, ma un nuovo dizionario del greco antico spesso ci vuole un secolo. Allora questi tre fattori sono di grandissima importanza e sono importanti anche per la diffusione di queste lingue tra i giovani in primo luogo e anche tra gli studiosi. Perché se un giovane che comincia a studiare il greco antico si trova di fronte a uno strumento che lo respinge, perché parla in una lingua moderna strana, perché ha un aspetto grafico strano, che non gli piace, che rende difficili le sue letture. Questo è un risultato molto negativo. Ci può mostrare con qualche esempio in che modo il suo dizionario può essere più utile rispetto ad altri? Beh, dunque eviterei di scegliere qualche esempio preciso perché è molto difficile, ma posso fare alcune considerazioni di ordine generale. Troppo spesso i dizionari tradizionali, cioè normalmente i dizionari tradizionali sono figli del loro tempo. Quindi per esempio il grande Liddell Scott è un dizionario che è praticamente, diciamo, assente per quel che riguarda il greco posteriore al secondo secolo dopo Cristo. E non ha praticamente niente, o ha molto poco per quanto riguarda il lessico della letteratura cristiana. Era così a quei tempi. Per il lessico del Nuovo Testamento e della letteratura cristiana dei primi secoli fu fatto un altro dizionario a parte. E per il lessico della tarda antichità gli studiosi se la dovevano cavare con strumenti molto molto più antichi. Ecco, io credo che un punto in cui il GI è più utile, diciamo, mostra la sua utilità sono proprio questi campi. Cioè il fatto di avere allargato l'arco cronologico di riferimento e l'arco culturale di riferimento. Allora nel GI è abbastanza facile, è abbastanza normale, trovare esempi tratti da autori minori, da autori, da opere, diciamo, senza autore che sono le opere, per esempio, dell'erudizione. È facile trovare esempi tratti da papiri e da iscrizioni, perché ci siamo impegnati su questo. Ci sono tutti i nomi propri, che nell'Ide Scott non ci sono. Questo naturalmente fa sì che se si aggiungono altri elementi di questo genere, bisogna ridurre, non volendo fare un dizionario grande come una stanza, bisogna ridurre gli esempi di altro genere. Abbiamo pensato che sacrificare uno o due esempi dello stesso uso della parola di Omero o di Euripide valesse la pena per aggiungere un esempio di un autore ellenistico, come Callimaco, oppure ancora più antico, come Quinto di Smirne o come Nonno di Panopoli, oppure per aggiungere significati e esempi tratti dalla letteratura cristiana che nel GI è considerata più o meno fino al VI secolo d.C. Lei ci ha spiegato il cosiddetto fenomeno delle parole fantasma. Attraverso i secoli, poiché i dizionari sono stati, per così dire, costruiti l'uno sull'altro, parole che in realtà non esistono e che erano il frutto di cattive letture, di manoscritti, papiri o iscrizioni, sono finite nei dizionari moderni se i curatori non sono stati abbastanza attenti. Può farci qualche esempio di queste parole fantasma che lei ha scoperto insieme al suo team? Sì, posso fare qualche esempio. Devo dire che devo anche spezzare una lancia diciamo in difesa dei miei compagni, insomma dei miei compagni di viaggio nella costruzione dei dizionari. Non è facile trovare tutte le parole fantasma e io sono tranquillamente convinto che ce ne sono ancora anche nel mio dizionario, perché nessuno riesce ad andare a rivedere tutto quanto, tutti i testi, eccetera. Qualcuna l'abbiamo trovata e l'abbiamo eliminata. Ce ne sanno, ripeto, delle altre. D'altra parte il più grande esperto di dizionari che abbiamo in Italia, che ha pubblicato dizionari, la cui è di Casediteci, ha pubblicato dizionari di praticamente tutte le lingue moderne, mi ha detto una volta stia tranquillo e non si preoccupi. Nel migliore dei dizionari, alla decima edizione, c'è un errore per pagina. Quindi state tranquilli, non si elimineranno mai tutti. Però certe volte vengono fuori delle cose importanti. Per esempio, una parola che è entrata nel Liddell Scott, nel supplemento, che è una parola che suona in greco abiatos, era una parola letta in un frammento di papiro e che non si conosceva prima. È stata difficile interpretarla. La si è interpretata come una variante grafica di abiatos, quindi alfa privativo più bia, quindi non forzato, non oggetto di violenza. Ma già dieci anni dopo la pubblicazione di questo papiro, che è stato pubblicato nel 1922, già nel 1936 uno studioso aveva trovato che questa lettura era sbagliata e che in realtà non c'era scritto abiatos, ma abiotos, cioè alfa privativo e bios, una parola conosciutissima. Allora questa parola, abiatos, non esiste. Eppure c'è nel Liddell Scott e anche nel dizionario spagnolo, greco-spagnolo. Non è una critica e non è neanche assolutamente una polemica. Ripeto, ce ne saranno anche nel mio. Qualcuna mi è stata fatta notare nelle prime edizioni e ce ne saranno ancora. Però questo è quello che accade. Una lettura sbagliata. Faccio un altro esempio. In un papiro di Ierocle era stata letta la parola athletos, interpretata come una variante grafica per athlastos, ma questa parola non esiste perché è stato letto athliptos, era un errore di lettura. E quindi athletos è stato eliminato e qui il Liddell Scott ce l'aveva nel 1940, ma l'ha eliminata nel supplemento. Mentre è rimasta nel dizionario greco-spagnolo. Queste cose, ripeto, non voglio assolutamente che abbiano un sapore polemico. È soltanto per dire che le strade sono infinite. Se nel timmo qualcuno va a vedere quel papiro, scopre la parola fantasma. Ma non si può rivedere tutto e quindi qualcuna rimane. Certe volte, nello stesso dizionario, una rimane e un'altra sparisce. Vi faccio un altro esempio. Nel Bailly e anche nel Rocci, il dizionario greco-italiano pubblicato nel 1943, c'è una parola un po' strana per dire la verità, diismos, diismos, che sarebbe composta da dià più ismos, cioè che vuol dire separato da unismo. Vorrebbe dire, cioè vorrebbe dire, vorrebbe dire se esistesse. In realtà questa parola che sarebbe in un testo degli oracoli sibillini è stata eliminata sia nel Lidescott e anche non esiste nel Thesaurus online, cioè una parola inesistente. Non si sa come sia venuta fuori, non si sa assolutamente, perché nell'edizione di questi testi questa parola non c'è, però è rimasta nel Bailly e nel Rocci. È stata eliminata nel Lidescott e nel G. Ultimo esempio. in un papiro documentario, i papiri documentari sono quelli che hanno documenti di carattere pubblico, amministrativo, eccetera, era stata detta una parola contonaitor, contonaitor, che però giustamente Lidescott non ha ripreso. una rilettura di questo papiro ha fatto scoprire che questo contonaitor era un errore di lettura per una parola scritta in greco conduktor che ha semplicemente la trascrizione in greco del latino conduktor. Quindi è una parola latina trasliterata in greco che è abbastanza normale mentre era stato letto tutt'altra cosa. Ecco, questi sono esempi, ripeto, è un fenomeno molto tipico delle lingue antiche e molto tipico del greco per una ragione storicamente e culturalmente ben precisa perché il greco è trasmesso, le opere greche sono trasmesse per lo più da manoscritti e papiri o iscrizioni e tutti questi sono supporti che comportano difficoltà di lettura. Talvolta anche una lettura corretta ma un'interpretazione sbagliata. E quindi una parola non è sbagliata ma è interpretata in modo sbagliato. Questo è un caso molto tipico del greco e rientra in quel fenomeno che dicevo prima cioè lo sviluppo della ricerca nella lingua da interpretare. Brill ha pubblicato l'edizione inglese anche come database online che verrà ampliata dal suo team che sta lavorando al progetto Words in Progress mano a mano che nuove parole vengono trovate, catalogate e nuove interpretazioni per parole già testate vengono aggiunte. Ci può dire qualcosa di questo progetto? Dunque, questo progetto che si chiama come lei giustamente ha detto Words in Progress è un progetto online nel quale via via noi introduciamo ricordiamo tutte le aggiunte, correzioni che ci vengono segnalate. Le fonti sono diverse e comincio da quelle di base. Gli utenti all over the world ci segnalano certe volte parole sbagliate ghost words oppure parole che mancano parole inesistenti ricordiamoci che nessun dizionario contiene tutte le parole di una certa lingua e men che meno quello greco. Ci sono per esempio un sacco di parole che provengono dai documenti amministrativi dai documenti contabili dalle lettere private cose di questo genere nessun dizionario è in grado di contenerli tutti forse un giorno un dizionario elettronico se il dizionario elettronico si svilupperà fino a questo cosa che a me piacerebbe molto. Quindi noi riceviamo dagli utenti italiani, inglesi, tedeschi, eccetera segnalazioni di parole che mancano di errori nei riferimenti degli esempi e cose di questo genere. tutto questo viene regolarmente inserito in questo database elettronico che si chiama Words in Progress al quale Brill ha anche contribuito e che è lì a disposizione di chi vuole tenerne conto. però io credo che si debba guardare lontano e quindi questo è una cosa non vorrei usare una parola negativa ma un po' passiva nel senso che mettiamo lì tutto quello che ci viene segnalato o anche quello che troviamo noi casualmente. però ho concepito anche un progetto diciamo più attivo e più centrato negli obiettivi. questo progetto attualmente ha questi due target uno è ampliare la presenza del lessico della letteratura cristiana tardo-antica e proto-bizzantina diciamo fino al X secolo d.C. qualcosa di questo genere questo perché ci siamo accorti che un lessico generalista come il nostro e non specifico il più delle volte non fa abbastanza spazio alla letteratura cristiana antica che però dall'età imperiale nella tarda antichità e nell'età bizantina è uno degli ambiti in cui sono state prodotte più opere. c'è una statistica che ci mostra come il numero di parole nei secoli che vanno dal VI fino al X il numero di parole che non sono testimoniate in altri secoli sia molto alto quindi c'è da aggiungere molto se si aggiunge la considerazione della letteratura cristiana antica fino al X secolo circa X-XI secolo d.C. altri due settori sono uno che ho proprio nei giorni scorsi considerato è l'epica tarda l'epica tarda che è un genere che ha avuto una grande diffusione nell'età imperiale soprattutto tra il III e il VI secolo d.C. nel nostro dizionario è considerata molto di più naturalmente che nell'Ide Scott o in altri dizionari per le ragioni che ho detto prima però non sufficientemente si può ampliare la presenza dell'epica tarda a partire tra il III e il VI secolo d.C. arrivando a nonno di Panopoli e agli poeti epici posteriori a nonno in cosiddetta scuola di nonno un altro settore che ancora devo esaminare ma che ho in mente di esaminare è quello della retorica dell'oratoria della retorica tarda antica e bizantina un altro settore molto molto ampio e poi ne ho in mente un altro che è quello della storiografia bizantina un altro settore di grandissimo sviluppo e che allo stato attuale è considerato solo nei dizionari della lingua bizantina allora io immagino che se uno strumento elettronico è fatto bene e riesce a far sì che uno studioso non debba consultare tre o quattro vocabolari diversi ciascuno magari di dieci volumi per trovare quello che cerca potrebbe essere un valore aggiunto importante queste sono è una delle vie principali cioè sono le principali vie di ampliamento che ho in mente quindi le aggiunte che possiamo aspettarci nei prossimi anni riguarderanno questi ambiti sì prossimi gli dia un significato un po' ampio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti